è giorno di paga evviva posso andare a fare la spesa e poi comprarmi la playstation col caschetto eh amico mi dai un euro per un panino per piacere neanche per sogno lo so che poi vai a drogarti pussa via amico dammi 350 euro subito adesso sto avendo una crisi di astinenza ma sei fuori forse non hai capito io sono l'inps se non me li dai ti fotto l'auto il conto corrente e pure tua sorella ma perché ti servono tutti questi soldi ah caro i 18 milioni di pensioni chi le paga e quota 100 e i falsi invalidi e va bene servono anche per la mia pensione no temo che creperai prima e tu cosa vuoi da me dammi 65 euro io mi occupo personalmente della manutenzione di ponti treni e autostrade avrò almeno un viaggio gratis certo l'ultimo viaggio amico dammi 250 euro sono dell'agenzia delle entrate se non si vede 3 euro e 20 per l'ilva di taranto 30 euro per i dirigenti della sicilia 100 euro per il reddito di cittadinanza 200 euro per il bollo auto e 70 di multa se usi l'auto perché inquina puzzone 90 euro per il canone rai ma non la guardo neppure 6 euli per tenerle sotto controllo il colonna virus 200 euro per mantenere chi non paga le tasse e chi è che non paga le tasse i giganti del web e le prostitute no 50 centesimi per la guerra in abissinia basta mi è rimasto solo un euro per ora te lo lasciamo ma ti teniamo d'occhio non credere di fare il fulbo e come la faccio adesso la spesa e veccio mi dai un euro per piacere ah no scusa te l'ho già chiesto aspetta a cosa ti serve questo euro per drogarmi ecco qua di sicuro sono soldi spesi meglio grazie per aver guardato questo cartone animato se volete che ne faccia altri iscrivetevi al canale nicola brusco con il bottone alla vostra sinistra e alla prossima